Una volta dissi a tua madre, questo bambino diventerà certamente qualcuno. E tu crescivi bello, sano, forte. Vederti crescere ogni giorno era una cosa meravigliosa. E quando è arrivato il momento per diventare un uomo e fruttare il mondo, l'hai fatto. Ma qualcosa lungo il tragitto ti ha fatto cambiare. Non sei esistito più. Hai permesso al primo fesso che arrivava di farti dire che non eri bravo. Sono cresciute le difficoltà, ti sei messo alla ricerca del colpevole e l'hai trovato in un ombra. Ora ti dirò una cosa scontata. Guarda che il mondo non è tutto rosa e fiori. È davvero un postaccio misero e sporco. E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Andando avanti, non è importante come colpisci. L'importante è come sai resistere ai colpi, come incasti. E se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte. Perché un uomo vince solo senza resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra. Accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I migliacchi fanno così. E tu non lo sei. Non lo sei a fatti. 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 Non lo sei. Non lo sei a fatti. Non lo sei a fatti. Non lo sei a fatti. Non lo sei. Non lo sei a fatti. Non lo sei a fatti.